ciao ben trovato in questo nuovo video oggi parleremo dei servizi accessori dedicati a chi vende o compra a casa con noi se non mi conosci lasci che mi presenti velocemente io sono Pierangelo Beretta sono un agente immobiliare dal 2006 lavoro a Monza in Brianza e a Milano nel 2021 ho venduto le case che mi sono state affidate dai miei clienti mediamente entro 34 giorni dall'inizio del piano di marketing e con uno sconto medio sul prezzo richiesto solo dell'1,5 per cento questo grazie ad un sistema di vendita ben strutturato che ho messo a punto nel corso degli anni puoi leggere anche le testimonianze che le persone hanno voluto lasciarmi chi ha già lavorato con me se vuoi saperne di più trovi i contatti qui sotto così almeno insomma cercheremo di capire se questo sistema è applicabile anche sulla vendita della tua casa ma ora entriamo nel vivo dell'argomento quando vendi o acquisti una casa ti ritrovi per forza di cose a dover aver bisogno di alcuni fornitori che ti possono e ti devono aiutare nella gestione pratica della situazione alcuni esempi penso al trasloco penso l'attivazione delle utenze penso all'impresa edile penso allo sgombero dei vecchi mobili ma penso anche alla necessità magari di avere di dover fare delle pratiche catastali delle pratiche di inizio oppure la necessità magari di fare un'assicurazione eccetera 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 come ben saprai soprattutto in questo momento non sempre i fornitori sono immediatamente disponibili per te quando li chiami capita purtroppo di dover aspettare delle settimane a volte anche dei mesi quindi cosa abbiamo fatto per risolvere questo problema per aiutare i nostri clienti nel corso degli anni abbiamo stretto delle collaborazioni con dei fornitori esterni ovviamente la nostra agenzia che erogano i principali servizi che possono servire quando si vende o si compra una casa in questo modo possiamo dare al nostro cliente un servizio davvero completo a 360 gradi ovviamente stiamo parlando di aziende di professionisti di artigiani di comprovata qualità e che godono totalmente della nostra fiducia con i quali abbiamo già lavorato anche personalmente tieni presente che questi fornitori sanno che quando segnaliamo un nostro cliente devono avere un occhio di riguardo sia in termini di urgenza quindi essere belli reattivi di fronte alla richiesta sia in termini di prezzi applicati questo non vuol dire naturalmente che andranno a lavorare gratis ma che applicheranno un trattamento speciale sicuramente sì e allora andiamo a vedere quali sono questi servizi accessori partiamo da quelli principali studio di architettura e lo studio architettura con cui collaboriamo può seguire sia il pre vendita con la sistemazione dei documenti o la produzione dei documenti necessari penso ad esempio all'ape quindi l'attestato di prestazione energetica la necessità magari di sanatorio di pratiche edilizie particolari sia il post vendita quando magari chi ha acquistato ha necessità di dover fare dei progetti per una nuova distribuzione degli spazi interni naturalmente abbiamo un'impresa ea e vile che con cui collaboriamo che può intervenire in caso di ristrutturazioni sia piccole sia grandi e che a sua volta può indicare degli artigiani come elettricisti idraulici eccetera eccetera abbiamo l'imbianchino di nostra fiducia forniamo il servizio di voltura utenze o di nuovo allacciamento delle utenze tema caldo in questo periodo perché tutti abbiamo ricevuto delle bollette che ci hanno lasciato a bocca aperta collaboriamo con un assicuratore che è utile per fare le polizze dei fabbricati piuttosto che quelle a protezione dei mutui naturalmente abbiamo un servizio di traslochi top di gamma e di deposito anche se necessario abbiamo anche uno studio legale e da poco abbiamo testato un nuovo servizio di sgombro dei locali abbiamo anche un'azienda che installa sistemi di sicurezza ovviamente il broker dei mutui e anche un giardiniere e ce ne sono anche altri che magari adesso sono in questo momento mi sfuggono comunque grazie a queste convenzioni i nostri clienti possono avere un canale preferenziale ed essere certi di affidare la loro casa in mani sicure anzi sicurissime spero che questo video ti possa essere stato utile ti ho spiegato un po insomma il nostro il nostro modo di assistere il cliente in tutto e per tutto quindi davvero a 360 gradi se vuoi saperne di più mi puoi scrivere e sentiti libero naturalmente di condividere questo video in modo tale che magari qualcuno dei tuoi conoscenti possa sfruttare questa opportunità io ti saluto ci vediamo nel prossimo video ciao